buonasera al momento mi trovo a vruglie nelle incoronate e faccio questo video perché mi è stato chiesto di illustrare per quello che io possa illustrare perché alla fine insomma ancora poca esperienza che ho però all'ussino lo conosco abbastanza bene perché ci sono andato tantissimi anni in campeggio ci sono andato vari anni in barca quindi lo conosco parecchio bene allora sicuramente poi ci sarà chi lo conosce meglio comunque io porto la mia esperienza allora partiamo dalle rade o baie con gavitelli all'ussino allora giriamo l'immagine allora intanto di fatto l'isola di lussino effettivamente è questa cioè da qui questa fa sì che questa sia proprio un'isola perché c'è un ponte quindi un'apertura un ponte elevatoio da cui si può anche passare attenzione perché se c'è tanto vento è vero che è ti evita di fare tutto il giro quindi ti evita praticamente se sei in questo versante qui e arrivi magari da nord quindi da cress barra osor sul ponte di osor che è qui su ok che anche questo apre solo determinati orari e magari ti permette di navigare da nord e di evitare di fare tutto il giro per poi entrare nella baia di lussino ok quindi puoi passare di qua a determinati orari però se c'è vento e corrente è una bella impresa più semplice la vedo con le barche a motore con le barche a vela ho visto più di qualcuno grattare a destra anche a sinistra quindi non lo so sono sei metri di larghezza e due metri qualcosa di profondità quindi attenzione qui e il barchetto è piccolo invece possono passare tutto il giorno se passano sotto il ponte ok partiamo da quello che ci interessa allora rade di lussino a partire dall'arrivo a lussino che di solito arriva per chi arriva da nord e arriva di qua io direi che la prima è zabodarsky uvala zabodarsky questa che se non sbaglio si chiama anche baia degli inglesi perché qui ci sono delle ville di probabilmente di personaggi inglesi ok però è sempre molto affollata è molto grande comunque molto bella fondale di sabbia e quindi molto bello una volta avevano messo dei gavitelli infatti sono segnati poi li hanno tolti non si capisce neanche loro cosa vogliono fare questa poi invece la baia di artatore che è un paesino con c'è anche un ristorantino si spende anche poco tra l'altro mangiare qui quindi anche artatore c'è sempre sabbia come come fondali quindi va bene sabbia e posidonia altra rada storica classica dove addirittura ci sono delle catene sotto perché c'erano dei gavitelli che hanno tirato via è murtar perché questo qui si chiama murtar quindi questa rada qui diciamo che si chiama murtar e e molti ormeggiano qui magari arrivano tardi la sera il tempo lo permette anche perché sei parecchio riparato quindi si mettono qui proprio in questa zona qui ci stanno una decina di barche poi volendo qui a murtar ci sono anche dei blocchi di cemento dove magari uno può andare solo andare sotto qualcuno ad attaccarsi con una cima e fare una specie di corpo morto fai da te ok procediamo con gli ormeggi di emergenza cioè arrivo è tutto pieno come capita magari uno arriva la sera quindi entra arriva qua in piazza in piazza gli dicono è tutto pieno mi dispiace se io arrivo e non trovo posto cosa faccio allora posso provare nella marina che marina lussini ma le lussini yacht club questa è una darsenetta comunale qui sono questi qui ci sono i pontili comunali però sono sempre pieni bisogna arrivare primo pomeriggio massimo o se no in emergenza ci possiamo mettere con ancora in cima a terra in questa zona qui ci possiamo visto qualcuno ancorare anche proprio in mezzo più o meno di fronte al distributore quello che adesso in disuso per le barche ed è attivo solo per le macchine e o se no c'è un pontile per barche da pesca che è in questa zona qui e ci si può attaccare le barche da pesca però la mattina presto bisogna tirarsi via quindi in emergenza si può fare passiamo poi ai gavitelli allora i gavitelli immancabili famosi in tutto il pianeta sono crivizza qui dentro sembra di stare in un lago ok si paga 250 cune per per barca da quello che ho capito percepito ci sono stato un paio di giorni fa due notti non ti chiedono neanche quanto lunga la barca ti mettono solo incontro 250 cune ok c'è in questa zona qui facilmente raggiungibile col tender immondizie e ci sono i gavitelli con tutte le cime a terra perché per farcene stare veramente tante di barche sembra di stare in piazza a milano ok ci fanno stare talmente tante barche tutte quante con ancora e cima a terra qui alcune hanno già la cima a terra altre devi arrangiarti quindi una bella cimona di 30 metri più che sufficiente più o meno per orneggiare ovunque bene poi c'è balvanida che è il piano b se il piano a non va c'è qualche gavitello poca roba e se no c'è anche chi si mette all'ancora parliamo di marina marina o pseudo marina allora in marina sono marina lossini yacht club lossini che è questa qua è vicino al distributore c'è poi io non ci sono mai stato premetto mai però so che c'è e so che anche ben fornito servizi belli tutto quanto poi c'è marina lucca che è la marina comunale l'autorità portuale diciamo impossibile prenotare non ti rispondono neanche inutile parlare l'unico modo è arrivare la prima possibile e prendere il posto ok qui si può prenotare qui no qui c'è solo acqua e corrente le docce c'erano le hanno tolte non c'è più niente qui invece c'è tutto prezzi qui non lo so qui 63 euro per un 10 metri quattro giorni fa poi dalla versante invece esterno dell'isola dalla parte diciamo di veli lussino c'è rovenska che è sempre il comune ha fatto un pontile comunale dove ci sono i tre ristoranti c'è il mall e gli altri due ristoranti il famoso ristorante dal pisano perché c'è un pisano che si è trasferito lì a parto a sto posto e quindi così anche qui hanno fatto un bel lavoro però pontili fissi non galleggianti quindi la mattina ti trovi con un'escursione non indifferente ecco poi a in baia cicat c'è un una marinetta piccolina 10 15 barche gestita in teoria dall'hotel belvù perché all'hotel 5 stelle nuovo che c'è qua e costa tantissimo sono stato due tre volte ma costa tantissimo abbastanza riparato a meno che non entri non ci sia magari un po di risacca perché mi è anche capitato anche quello e bagni scarsi docce abbastanza scarse però ci sono acqua e corrente disponibili discorso sicurezza qui volendo può entrare chi vuoi chi vuole nel pontile quindi teoricamente non è mai successo niente ma non si sa mai nel porto qui idem magari se lasci fuori la canna può essere ti rubino la canna bisogna stare un po attenti e per il resto anche anche a anche a rovenska bisogna stare un po attenti perché comunque sei libero il paesetto è piccolo però può entrare chiunque nel pontile accessibile a tutti questo invece a un marina in teoria è chiuso e inaccessibile passiamo a cosa visitare a lussino cosa fare come passare il tempo eccetera allora passeggiata lungomare quindi a partire dal centro di lussino si può passeggiare lungo tutto quanto alla costa andando verso nord ok e si può costeggiare ad arrivare fino alla baia suncena che sarebbe la baia del sole che è la baia dopo cicat ok al tramonto più o meno a metà strada è veramente bello si riesce a vedere un bel tramonto poi se si vuole passare una giornata c'è l'acqua park nel campeggio cicat penso basti pagare l'ingresso insomma si può andare dentro abbastanza carino divertente poi una cosa molto bella divertente sono i tuffi da veli o dalla scogliera oppure dai tubi dico tubi praticamente è una specie di acquedotto sembra una cosa del genere c'è anche la scala che dall'acqua viene su fino a dove ci si può tuffare nel video precedente secondo blog che ho fatto qua a un certo punto indico esattamente dove dove è il posto per andare a tuffarsi quando ero a veli poi da crivizza si può andare a veli passeggiando è la morte è veramente la morte perché sarà una delle passeggiate più dure che vi ricordate per il resto della vostra vita comunque volendo si può fare si può andare sopra il monte vasto e sia si gode praticamente da sopra al monte vasto si vede praticamente tutta la baia del centro e si riesce veramente a godere di una vista molto bella sulla pineta sulla baia di lussino e sopra ci sono anche dei dei ruderi delle rovine della guerra dei bunker sostanzialmente poi volendo si può andare alla baia degli inglesi che è carino per andare a fare il bagno in giornata così poi ci sono altre cose per carità tutto quanto a me piace andare anche a fare i tuffi da da sopra alla cabina di baia ci sono tante cose interessanti si può andare con i go kart insomma è una città grandina si può fare un po di tutto quello che si vuole queste sono le cose che io preferisco insomma ecco se il video ti è piaciuto iscriviti al canale e metti un like video ti è piaciuto iscriviti al canale e metti un po di tutto quello che si chiama ci sono le cose che 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 è Grazie.